Stanno arrivando gli ultimi arredi per consentire agli studenti della città di cominciare la scuola in presenza e in sicurezza. Sono 1300 in tutto i banchi e 400 gli armadietti che sono stati richiesti dai dirigenti scolastici al sindaco Abaticchio e all'assessore alla pubblica istruzione Marina Salierno. La prima campanella però per gli alunni degli asidi elementari e medie degli istituti comprensivi pubblici della città suonerà il 28 settembre come in molti altri comuni della zona. Fra le motivazioni è anche la volontà da parte dei dirigenti di portare a termine una curata pulizia degli ambienti dopo le elezioni di domenica e lunedì prossimi. A causa dell'emergenza sanitaria e del risicato tempo che intercorre fra la fine delle operazioni di scrutinio del voto e l'inizio dell'anno scolastico, si legge nella nota dei dirigenti, sarebbe stato difficile assicurare un'adeguata e indispensabile sanificazione approfondita degli ambienti che saranno interessati dal passaggio di tante persone, ivi compreso lo stazionamento delle forze dell'ordine per le quali è prevista la continua presenza notturna. Certo le paure non mancano e secondo il sindaco e il ministro Azzollina non è stata abbastanza terrena nelle esigenze di genitori, alunni e docenti. Abaticchio infatti ha il timore che proprio a causa dei contagi potrebbero esserci dei focolai che costringerebbero alla chiusura. Ai dirigenti, spiega il primo cittadino, non sono stati forniti gli strumenti necessari per controllare la temperatura ai bambini, né gli spazi giusti né l'attrezzatura digitale. Sarà un anno difficile e toccherà armarsi di pazienza e attenzione.